Raga, io penso che a breve possiamo cominciare, volevo giusto spendere due parole su un anime che sto vedendo in questo periodo, ovvero Platinum Hand, giusto per farvi un attimo partecipi di cosa sto seguendo in questo periodo, sono arrivato all'episodio 6 di Platinum Hand. Allora, devo dirvi che è un bell'anime Platinum Hand, a differenza di come me lo avevate descritto, è meglio di come me lo avevate descritto, che me lo avevate descritto come una cacata colossale, diciamo che Platinum Hand ha, per adesso sto riscontando due problemi in Platinum Hand. Allora, il primo è che ci sta questo personaggio qua, che compare in questa ending fighissima, ovvero Metropolyman, che vi voglio far sentire l'ending perché è fenomenale, cioè tu vedi questo personaggio nell'ending, tutto fiero sul trono, capelli bianchi, poi nell'anime è molto intelligente, sembra un po' anche un light della situazione. Vedi questo personaggio e pensi, lui vuole diventare Dio, perché lui è uno dei candidati a diventare Dio, quale può essere la motivazione che lo spinge a fare questa cosa? La fama, il potere, un nuovo mondo, un qualcosa di incredibile che noi umani, noi persone umane non possiamo comprendere, invece no. Spinge Metropolyman a voler diventare Dio con tutto se stesso, è la sorellina. E io, raga, cioè non ce la fa, nel senso, mi dà fastidio quando, non è che, non dico che sia una motivazione brutta, però è una cosa già vista, cioè il fatto che ci siano personaggi che hanno il complesso con la sorellina è Code Geass, è il cazzo di Lelouch di Code Geass, che è un personaggio bello, ma che deve, non lo so, risulta una mezza merdina quando si tratta della sorellina del cazzo, Nanali, come si chiama, e un po' me lo fa calare, non lo so, purtroppo, quando ho scoperto questa cosa, lo faccio per mia sorella. Nel senso, va bene, non è una cosa bruttissima, assolutamente, però mi ha un attimo detto, vabbè, un altro che c'è al complesso della sorella, e vabbè, purtroppo ce lo portiamo avanti. Il secondo, regà, lui, lui, il protagonista, non ce la faccio, regà, il protagonista di Blood in a Man, è una delle cose più cringe, più fastidiose che ho mai visto, ora, ripeto, non ho visto gli ultimi episodi, sono al sesto episodio, ma le motivazioni, le cose che dice, le cose che fa, mio Dio, voglio morire quando lo sento parlare, voglio uccidermi, è una cosa proprio senza senso, cioè, questo partecipa a un gioco mortale, viene scelto per diventare il prossimo Dio, e di conseguenza deve difendersi e uccidere gli altri candidati che vogliono diventare degli dèi, e questo se ne esce con, a un certo punto, tipo, nell'episodio 5, se non sbaglio, c'è un flashback, in cui ci sta il padre, ci sta il padre del protagonista che dice, figliolo, uccidere, è sbagliato, e lui, ritorniamo nel presente, lui, no, io non posso uccidere, non posso ferire le persone, va contro la mia morale, ma va a parar lo culo, bastardo che non sei altro, me l'ha, ma c'è, sto anime, fa schifo per questo, Il protagonista è una roba ignobile, dovrebbe, dovrebbe veramente scomparire, è una cosa senza senso, quindi è un bell'anime, secondo me, Platinum Man, c'è una bella storia, le cose che succedono sono fighe, ci stanno delle belle OST, ma il protagonista è una cosa fuori da, non sta né in cielo né in terra. La trama, vista e rivista, alla fine è un death game, che, sì, devono uccidere gli altri candidati, però è figo, cioè io me lo vedo volentieri perché mi interessa, anche la cosa dei Power Rangers, che io credevo sarebbe stata una cazzata, non mi pesa per niente, alla fine, il fatto che indossino delle tute per non farsi riconoscere non è pesante per niente, ma il protagonista io spero che abbia un rinsavimento, un qualcosa, perché attualmente siamo a un livello di demenza, veramente, non me lo spiego, vogliono tipo tirar fuori la morale da come si comporta il protagonista, ma secondo me è proprio, non c'è nessuna morale da tirare fuori, è un comportamento proprio da imbecille, non lo capisco.